Com'è andata? È migliore se ci risponde. No, non è vero. È stato un viaggio d'Ircino? Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dall'avvocato Angelo Pugliese all'uscita del Tribunale di Castrovillari, difensore di Isabella Internò, ex fidanzata di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, trovato morto in circostanze mai chiarite il 18 novembre 1989, lungo la statale 106 nel tratto che attraversa il comune di Roseto Capospurico. La donna, non presente in aula, è accusata di concorso in omicidi aggravato dalla premeditazione in concorso con persone ignote. Questa mattina, presso il Tribunale della città del Pollino, ha preso il via l'udienza preliminare davanti al GUP Lelio Fabio Festa. L'udienza è servita per la Costituzione delle parti. Il 17 settembre il Pubblico Ministero sarà impegnato nella requisitoria. Nella stessa data interverrà anche la parte civile, mentre il 20 chiuderà la difesa. 32 anni per conoscere la verità su un caso riaperto dall'allora procuratore capo Eugenio Facciolla e oggi portata avanti dal sostituto Luca Primicerio. Ha processo l'unica rinviata a giudizio dalla procura dopo la terza inchiesta sul decesso del calciatore, l'allora fidanzata Isabella Internò. Prosciolto il marito Luciano Conte, la cui posizione è stata archiviata. Prosciolto anche il camionista Raffaele Pisano, che con il suo mezzo sormontò sul corpo e in fin di vita di Denis Bergamini quella sera del 18 novembre del 1989 lungo la statale Centessene ai pressi di Roseto Capospulico. La versione della Internò, smontata da Facciolla nel 2017, era che il giovane centrocampista rosso-blu si era tuffato contro il camion per suicidarsi. La famiglia e soprattutto la sorella donata, oggi non presente in aula, non ha mai creduto alla versione ed è andata avanti assistita dall'avvocato Fabio Anselmo. E nel 2011 una perizia dei Risse di Messina dice che Bergamini sarebbe già morto prima di essere investito. La Internò e Pisano ricevono l'avviso di garanzia, con cui si ipotizza il reato di omicidio per la donna, mentre al camionista viene contestato il favoreggiamento e le dichiarazioni mendaci. Nel 2014, al termine delle indagini, il GIP chiede l'archiviazione per i due, che giunge un anno dopo, nel dicembre 2015, e nel 2017 la riapertura del caso. Viene riesumata la salma di Dennis e la perizia disposta dal PM certifica il soffocamento avvenuto prima che il corpo di Bergamini fosse investito dal camion. 32 anni che la famiglia Bergamini attende di conoscere la verità. L'avvocato della famiglia, Anselmo, accompagnato dai nipoti di Dennis, figli della sorella donata, all'uscita ha detto che il collega pugliese ha presentato delle eccezioni che verranno valutate il 17 di settembre, quando sarà ascoltata l'accusa.